LATINISM E' stato un prodotto faticoso e devo moltissimo al Franco Ceccotti e al suo ufficio tecnico. Syscreenium è il prodotto che vediamo. La mia idea era di fare un prodotto più agile, solo destinato a scrittorio. E' stato declinato a mobile e bar e a vanity solo sul loro suggerimento. L'azienda ha una grande esperienza nell'allestimento delle parti interne, negli abbinamenti con i legni, le pelli. Quindi mi sono affilato a chi avrebbe garantito il migliore risultato. Come home office troverà sicuramente consenso nel contesto dello smart working di lusso, essendo un mobile estremamente sofisticato. LENI PREGIATI LENI PREGIATI è ferramenta esclusiva in metallo nobile, sono i dettagli che caratterizzano questo mobile di grandissimo pregio. LENI PREGIATI